Fabrizio Mazza, Will Trasporti, a due settimane dall'avvenimento di Neos, i membri dell'equipaggio che sono rifiutati di partire, oggi è davanti all'Operation Training Center per prendere una posizione netta. Qual è? La nostra posizione è stata chiara fin da subito. Noi abbiamo avuto una segnalazione dai nostri iscritti di questo evento, il nostro parere è molto grave e da questo punto di vista sono partite una serie di iniziative. La prima che abbiamo fatto sarà aprire una procedura sindacale contro l'azienda per verificare le cose a cui ancora non abbiamo avuto risposta. Poi abbiamo fatto un esposto insieme anche alla FITCGL, quindi sono due organizzazioni nazionali molto importanti, a ENAC che è l'ente di controllo. Quindi senza entrare nel merito del tecnicismo, noi riteniamo che ci siano state delle presunte violazioni, ma non siamo noi che dobbiamo deciderlo, quindi vediamo cosa dirà l'ente di controllo. Nella fattispecie l'unica cosa di cui siamo sicuri è che sei lavoratori hanno dichiarato di non essere abili al volo dopo una riprogrammazione del loro turno perché non avevano il riposo programmato, quindi giustamente è uno strumento previsto da normativa internazionale, hanno dichiarato di non poter effettuare quel volo e si chiama la fitness to fly, cioè l'abilità a farla, quindi uno deve aver riposato adeguatamente per poter farlo. Non è un diritto, è un dovere, cioè chi sta sugli aerei, piloti, assistenti di volo, se si sentono non in grado di effettuare il volo lo devono dire perché su un volo, diciamo, quando si fa attività di volo bisogna essere al 100%. Questo è successo, è successo in maniera un po' rocambolessa che verrà poi descritta anche da uno dei lavoratori interessati e a fronte di questo, della dichiarazione di non poter effettuare il volo, noi abbiamo la documentazione aggettiva che l'azienda ha agito con mezzi che noi consideriamo inadeguati, inappropriati a quello che è la normale aviazione generale e delle compagniere. In particolare questi sei lavoratori sono stati lasciati fuori della loro base, quindi non sono stati ricoperti dal vettore della società, sono dovuti ritornare da soli i mezzi propri alla base di appartenenza. Appena tornati alla base di appartenenza si sono visti scaricare tutte le ferie d'ufficio per il mese intero restante di novembre, quindi noi stiamo parlando di un evento che è successo il 10 e sono stati messi forzatamente in ferie, in più noi abbiamo la nostra tornazione di attività lavorativa che esce generalmente 17-18 di ogni mese per il mese successivo, casualmente questi sei lavoratori sono stati sospesi dall'attività di volo, cioè senza nessun tipo di notifica il loro turno di volo è uscito senza attività. Queste sono cose che noi ovviamente abbiamo la documentazione anche perché il nostro ufficio legale ha diffidato la NEOS a fare questo tipo di azione, quindi abbiamo tutta la documentazione oggettiva, quindi di questo noi con queste cose qui andremo avanti nelle sedi opportune.